Prosegue la marcia della tripalda volley verso il prossimo campionato di B1, i sabatini che quest'anno tornano in un torneo nazionale hanno iniziato con le primi amichevoli. Ieri alla palestra d'Ami i ragazzi di Carullo hanno affrontato Marcianise, buona prova quella di Picariel e compagni contro la quotata formazione guidata da Calabrese. Una gara in cui si sono visti i miglioramenti effettuati in questa prima settimana di allenamento da parte dei bianco-verdi che non si sono di certo risparmiati. Colarusso schiena nel sestetto iniziale, regia Salerno, Posto, Picarielno e Ardenio in banda, Silvestri e Mitidieri al centro ed Emanuele Marra nel ruolo di libero. Tra le fila degli ospiti, ottima prestazione del capitano Di Florio. Sicuramente per la tripalda c'è ancora molto da lavorare, ma le premesse sono buone. Ora l'appuntamento è per sabato pomeriggio a Pozzuoli, quando Picariel e compagni dovranno affrontare la formazione locale.